...como Bartel, eccolo qui, Gustavo Bartel, alla presenza numero 3 uome, Bartel, affrontato da Repka e Corchi, riesce ad arrivare Battistuta, e allora Bartel, innesta la marcia veloce, la sua caratteristica migliore, riesce ad andare via a Torricelli, ci sono 4 viola su di lui, si libera con un campanile di Torricelli, poi Bartel elegante riesce a girarsi, può distendersi la Roma, Tomastra, Bartel, Bartel, un contrasto vincente per Bartel, la finta, ancora un'altra finta, va via Bartel, Bartel dentro e il gol di Dimitri Alemice, lo rivediamo qui nella fase finale, Palla dentro, di piatto, Alemice in anticipo su Torricelli, un po', vedete, un contrasto con Padalino, poi la finta su Eirik, palla sotto, fatto fuori e moloso, poi anche Eirik, davvero un gol di Alemice da dividere, quanto meno a metà con Bartel, 1-1, Bartel, in seguito da Ruicosta, Bartel, scivola Ruicosta, toglie il palo, pallaruga di Chimenti, Bartel riesce a fare la sua, e vince lui in palo, tiene il palone, l'intervento falloso, Bartel sulla fascia destra, affrontato da Eirik, di tacco per di Francesco, Bartel, Bartel, ancora Bartel, Totti, ed è in gol di Totti, incredibile, a 30 secondi dalla fine, la Roma è in vantaggio, di Tula scavalcare al 93esimo da Totti, prova di grandissimo carattere da parte della Roma, la Fiorentina butta una vittoria quasi acquisita, e la trasforma di...